Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco seguia quando parla di sinistra-destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta. 138esima puntata di Carta Canta. È successo qualcosa di clamoroso al CIRSU, nella Repubblica Indipendente di Grasciano. Qualcosa di illegale. Una lettera dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità. Vi ricordate? Un CDA formato da soli uomini. Come mai alla TEAM l'hanno dovuto cambiare? Mettere una donna e al CIRSU nulla. È pervenuta a questo ufficio una segnalazione concernente il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Codesta Società, secondo la quale la composizione del predetto organo non sarebbe in linea con la normativa vigente in materia di parità di genere negli organi di amministrazione e controllo di società sottoposte al controllo pubblico. Il Dipartimento per le pari opportunità cita ovviamente il DPR del 30 novembre 2012, numero 251. Il rispetto del cosiddetto equilibrio di genere deve essere assicurato per tre mandati consecutivi, a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del citato DPR. Da una verifica effettuata sul sistema Telemaco, registro informatico delle imprese, si rileva che la società CIRSU-SPA, Consorzio Intercomunale Rifiuti Urbani, risulta essere una società partecipata da più amministrazioni pubbliche, le cui quote di proprietà sono distribuite nella stessa percentuale, 16,67%, tra il Comune di Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Bellante, Mosciano Sant'Angelo, Morrodoro e il Comune Notaresco. Il parere del Consiglio di Stato, e qui cita ovviamente il parere del Consiglio di Stato, ha ritenuto applicabile la normativa in materia di equilibrio di genere. Qualora si ritenga di non ricadere nell'ipotesi di società controllata congiuntamente da più pubblica amministrazione, si richiede che il legale rappresentante di cotessa società rilasci, sotto la propria responsabilità, una formale dichiarazione sostitutiva. Avevamo ragione? Avevamo anche detto che se fosse accaduta una cosa del genere ci sarebbero ricresciuti i capelli. Questo è il potere delle donne. Carta canta.